Hey là, ciao, sono Rollpierre e benvenuti ancora una volta a un altro episodio di Rafter Quanto pare recentemente c'è stato un grosso aggiornamento su questo gioco e io vorrei prima o poi esplorarlo insieme a voi E già da un po' di tempo c'è la possibilità di trovare un'isola molto più grande rispetto alle solite E adesso c'è anche la possibilità di trovarci sopra diversi animali che potrebbero essere anche utili Tuttavia per trovare quest'isola dobbiamo prima raggiungere la stazione radio E per fare ciò ci servono delle antenne e un ricevitore e penso che oggi questo sarà il nostro obiettivo E da un po' che non torniamo alla nostra zattara, vediamo un po' come l'abbiamo lasciata Se non sbaglio stavamo costruendo un'altra fonditrice Per le antenne e per il ricevitore ci servirà un sacco di rame se non sbaglio e anche di metallo Ok, passiamo, eccolo, ah l'abbiamo già costruita, grandissimo Abbiamo messo anche dei lingotti di metallo, ne abbiamo altri da mettere Un sacco anche Molto bene Ok Ecco, iniziamo già bene fallendo miseramente Dammi quel... Oh, ma che cazzo Ok, oltre a questa stanza abbiamo anche la zattara Eh sì, la zattera Ovvio che abbiamo la zattera Abbiamo l'ancora sulla zattera E abbiamo anche messo due palme Yes Questo coso perché l'abbiamo fatto così? Ah, forse era per raggiungere... Era per raggiungere qualche isola Noi potremmo anche costruire una vela A questo punto Diamine Facciamo una vela Oh, yes Ah No, ho sbagliato Ok, dove la mettiamo? La mettiamo qua sopra? Ha senso Così se dobbiamo buttare giù l'ancora Possiamo direttamente farlo... Ci buttiamo giù da qua E aggiungiamo... Bob Mamma mia Eccolo fatto Yes Ora non ci servirà più... Questo Se non sbaglio Questa... Possiamo andare dove vogliamo con questa Oh, yes Guarda che figo Possiamo anche raccogliere... Oh Che figo Possiamo raccogliere le cose stando fermi praticamente Basta andare nella loro direzione E siamo a posto Che figata ragazzi Tipo voglio questa cassa Ok, prendiamola Se non sbaglio ci servirà anche una griglia un po' più carina Che possiamo già fare in realtà Con dei chiodi Oh Possiamo fare i chiodi da qua direttamente Questo non lo sapevo Molto utile Ok, griglia migliorata Abbiamo un sacco di improvement oggi In questa partita Va bene Metteremo qua le griglie allora Però dobbiamo trogliere quelle cose là Mmm Ok Ehm Come si fa a togliere le cose? Rimuovi Vabbè Aspettiamo che finisca di cucinare le patatatine Le patatatatine E poi No, no, no Ok E poi mettiamo la griglia migliorata Uh Possiamo fare le pinne Scusa Cosa serve per fare le pinne? Aiga tralcio appiccicoso Ok Se non voglio le tralcio appiccicoso Lo fai cucinando le aighe Ma noi abbiamo aighe? Non abbiamo aighe veramente? Oh Bob No, 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 no Muori Ma porca Ma sta Siamo proprio un bastronzo Tardo, questo com'è? Scusa un attimo Come lo realizziamo questo? Con una pentola Ah, vediamo un po' Cosa serve per fare la pentola No, qua Che cazzo faccio? Ah, secchio Uh Semplice ma utilissimo Che cavolo serve? Ma cos'è tutta sta roba? Perché non lo riesce? Ah Sai che forse questo è Dall'ultimo aggiornamento L'hanno messo Mira un animale per prenderlo Ecco, sì, infatti Apprendi, apprendi, apprendi Tutto Bombola di ossigeno Cosa ci serve? Una bottiglia vuota? Aiga Ah, ecco dove erano le aighe Maledetti Mettiamo le aighe a cucinare allora Prendiamo questi Ora possiamo mettere Qua Al posto di queste tre cose Una bellissima griglia Cavolo, occupa un sacco di spazio sta cosa Diamine E se noi mettessimo così? Nah Potremmo fare qua da qualche parte la cucina Tipo qua Potremmo fare qua la cucina Sì Buona idea Mettiamo qua i cucinini E qua tipo la cassa del cibo Sì, sì, sì Mi piace Fatta 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 Allora, questo la chiudiamo Oh yes Guarda qua Che bello Ma sì Dai, va bene Così Al massimo un'altra fonditrice La metteremo qua sotto Che ne so Molto bene Mettiamo Oh, ci sono tre patate Figo Possiamo mettere anche il pesce crudo Finalmente Sì, il pesce crudo Il pesce gatto da cucinare Ok, va Basta Basta ciance Tu non ho un sacco di assi Un'isola Isola Isola Tataradà 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 Oh yes Ok, però così ci andiamo a schiantare Io direi che non è il caso Urca vacca Aggiustiamo un attimo la rotta Ok, ci siamo, eh Perfetto Oh, chiuditi No Ancora Ok, dovrebbe bastare Sì, perfetto Guarda che parcheggio Ah, shit Non basta Ah Fuck Ok, ci riprovo Ci riprovo Ci riprovo Bim No Per niente Cavolo Ci sarebbe una scala anche là Ok, abbiamo Abbiamo Possiamo fare una scala Yes Così dovrebbe bastare Oh Ah, ah, ah Bene, bene, bene Tagliamo, tagliamo tutta la legna Mi sa che abbiamo troppa roba però Ah, cazzo Accidenti Suck Oh Sai cosa, invece? Invece di mettere là la cucina Potremmo metterla qua Se espandiamo un po' questa stanza Sai che non è una brutta idea? Va bene, facciamolo Ah, ah Che ne dite? Mi piace Ok, ha un po' più di spazio Questa cosa Così Qua invece di questo No Ah, merda Ho tolto il supporto E quindi si è spaccato tutto Ok, allora qua mettiamo Tipo questo Yes Ah Ah, carino Carino Ok, ci manca la legna Cavolo Sono stupido Ok, andiamo a prendere legna Adesso che abbiamo spazio andiamo a prendere legna No Per niente Non riesco ad andare su No, dai Ti prego Cazzo Che sfiga Ah, fuck Ok, preso quello che potevamo prendere sull'isola E' tempo di andare sotto all'isola Dobbiamo trovare un modo per poter raggiungere le parti più alte di un'isola O facciamo una zattera enorme Però Ci serve molta, molta legna Oh, guarda Con ancora Abbiamo 5 alghe 6 e 5 tralci Con un'alga in più Possiamo fare le pinne Dai, mi manca una ringa Oh Dai Ho 6.000 pesci E neanche due ringe Ma due pampi Che ne so Uffa Dammi le ringe Oh, finalmente un'altra ringa Boh, aspetta Vado avanti a pescare Così magari Abbiamo due esche Invece che una Così abbiamo un po' più di tempo Vado avanti a passare Non ha più le braccia Ma peccato che non possiamo ripararlo Ok, abbiamo due esche Abbiamo già due esche Nice Io direi di usarle subito Guarda un po' che utile che è questa griglia Tipo velocissima Mettiamo altre Tilapie Ok Direi che siamo a posto Pronti per andare Ok, ci servirebbe Dovremmo stare pronti a costruire le pinne Quindi possiamo portarci dietro queste cose qua Quindi con un'alga ci facciamo delle pinne Perfetto Ok È tempo di andare Bim Vai Bob Tocca a te Fai il tuo L'altro Ci sono alghe qua in giro Sì, là Ottimo Let's go Ok, prendiamo anche altri di questi Ci sfiderà tanto metallo in ogni caso Ok, abbiamo un'alga Possiamo fare le pinne E possiamo già metterle Oh yes Siamo molto più veloci Oh yes Yes Allora, ci servono dei metalli Dobbiamo cercare subito quelli Così non sprechiamo troppo tempo Abbiamo già finito l'ossigeno Merda Ci servono anche altre alghe Possiamo fare un sacco di cose con La plasticaccia Non ste cose Già che ci siamo Alga Alga, please Alga Alga No eh Accogli alga Solo Solo una Ci sono due Tre cose qua Ah, veramente Ah, ecco dove l'alga Bene Torniamo su Bob no Bob no Bob no Bob no Eravamo molto vicini Ok, facciamo la bottiglia E ricerchiamo subito Cosa possiamo fare con essa Ah, però mi sa che la consumiamo Se la mettiamo nella ricerca Questo si può fare Bumola di ossigeno Che ci servirà Una bottiglia vuota Ovviamente Addio santo Madonna Quanti tracce Più ci cosi Quindi Quattro per la bottiglia Più altri cinque Per sta roba Ok, dobbiamo prendere un sacco di alghe Se riusciamo Ok, dobbiamo prendere solitamente tutte le alghe Che troviamo Qua non ce ne sono Cavolo Si può andare ancora più in basso Uh, qua c'è una cassa Ok, prendi tutte le alghe Prendi tutto Prendi tutto Non c'è niente Fanculo Yes Chiodo Asse Corda Yes Yes Ora moriamo Ora moriamo Perdo Ci arrivo lo squalio in faccia anche Presto, 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 presto Uh Oh L'ho vista, buia L'ho vista, buia Pino del cazzo Ok, ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Forse ce la facciamo fare una bottiglia anche Perché abbiamo due Più cinque Più due Si, ce la facciamo Possiamo fare una Ah, bombella d'ossigeno Perfetto Io direi che possiamo Partire Così peschiamo Prendiamo un po' di esche Prendiamo un po' di legno Spendiamo le base Ma si, legno Allora direi che questa La possiamo spostare A questo punto Dato che possiamo Possiamo spostarla qua Però non ci stanno due Allora mettiamole qua Le griglie Ok Ecco fatto Qua potremmo mettere la pentola Quella cosa enorme Ah, però ci sono altre Ci sono altre alghe Veramente Palle E un sacco di metalli Uuuu Uuuu Interessente Oh, ma basta Cioè ti ho colpito già tre volte Sei, sei volte Che viene qua Porca vacca Abbiamo anche le palme Cresciute adesso Yes Scusa Si è rotta la vela Nooo Si è rotta la vela Cazzo Aspetta Devo rifarla Prima che Sia troppo tardi Ok Sarebbe tra l'altro Un sacco di fogliame Ok Tanto ne abbiamo Possiamo fare la bottiglia E la bombola d'ossigeno Soprattutto C'è anche la plastica Perfetto Recipienti Questo E bombola d'ossigeno Nooo Ne serve ancora uno No, come ne serve ancora uno Ah, che stupido E qua Ok E mettiamo un altro albero Anche qui Oh yes Così saremo Pieni di alberi E potremo Vivere Autosostentati Wow Che termini strani E anche la bombola d'ossigeno È stata fatta Bene Ora siamo praticamente Devastanti sott'acco Abbiamo tutto Pinocolo Abbiamo un po' Freccia di metallo Antenna Ah, ecco Questo si serve Antenna Ci serve della scheda elettronica Dove la cavolo la troviamo? Vaso d'erba Batteria Scheda elettronica Ah, con un lingotto di rame Possiamo farlo Batteria e scheda elettronica Perfetto Per l'antenna invece Serve la scheda elettronica Scusa per il ricevitore Non ho più la Ah, non ho più la lancia Faremo meno metallo, dai Già che ci siamo Oh là Anche un gancio in metallo Sarba il figo Rottami Bolt Ok, Bolt possiamo farlo I rottami non ne abbiamo abbastanza? No Beh, ok Prossima volta che troviamo un'isola Dovremo prendere tanti rottami Argilla Altre alghe Perché servono parecchie Eccola un'isola Mi servono tante alghe Mi servono tante alghe Ah, non ho più il gancio Merda Non ho più rottami Ah, non posso fare rottami Really? No Devo fare un namu semplice Vabbè Adesso mi accontenterò di questo Va bene ragazzi Come sempre io vi ringrazio Per avermi fatto compagnia Ora sappiamo cosa fare Siamo sulla strada Per costruire il ricevitore E l'antenna E dobbiamo solo posizionarle E cercare la stazione radio E poi potremo andare Alla ricerca della grande isola Detto questo Io vi ringrazio Vi saluto E noi ci vedremo Alla prossima puntata Ciao ciao Ciao